Come vedete c'è un chest con un biscotto, un pesce, un osso, un seme, un diamante, una pala, una cordicella, una canona pesca e il carbone, una torcia e come vedete c'è un solo un albero, la mappa non è una mappa perché è molto piccola, ma vediamo dalla distanza che c'è anche un'altra isoletta a pochi chilometri da noi. Ciao! Mi raccomando di iscrivervi, di votare, di commentare e spero che la nuova serie vi piaccia. Ciao!